Gestione dei centri di accoglienza per i migrati è stato il tema del seminario di studi che si è tenuto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela grazie a Vincenzo Cascio, direttore scientifico e alla Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. L'obiettivo è stato quello di fornire agli operatori sociosanitari gli strumenti pratici e le strategie applicative che consentono di gestire comunità quali i centri di accoglienza per i migrati nelle diverse aree di convergenza psicosociale e l'area sanitaria. Era importante innanzitutto avere sottoquadro le diverse aree di intervento per quanto riguarda i centri di accoglienza immigrati in particolare l'area psicosociale, l'area sanitaria e l'area legale. Queste aree richiedono degli interventi integrati che solo un'equipe multiprofessionale può riuscire a gestire. Quali sono le strategie, i compiti veri e propri? Innanzitutto la compilazione di schede e di cartelle che consentono un monitoraggio degli interventi, una supervisione, una coordinazione degli interventi in un'ottica integrata. Il seminario patrocinato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia ha consentito ai partecipanti l'acquisizione di crediti formativi professionali. Questo seminario ha lo scopo di fornire agli operatori del settore uno strumento per acquisire delle competenze ancora più specifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore e cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze che maturano nel nostro contesto in particolare nell'ambito socio-sanitario e assistenziale che comunque rientrano tra quelli che sono i punti chiavi che la fondazione vuole portare avanti al fine di fornire un supporto al territorio laddove il nostro modello di welfare ultimamente in effetti si vede che è messo un po' in crisi. Quindi spesso queste nuove dinamiche portano gli operatori del terzo settore, come la fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio a cercare di essere propositivi nel riuscire a fornire degli nuovi strumenti per creare un valore aggiunto sia per chi come noi cittadini italiani si trova a frontaggiare la problematica dell'immigrazione sia gli stessi immigrati clandestini che sicuramente poi si trovaranno di fronte degli operatori più consapevoli, ancora più formati di quello che siano attualmente.